Perché noi dobbiamo metterci dal punto di vista dei robot. Allora, se ti metti dal punto di vista del robot, ragazzi alzate, robot alzate la mano sinistra. Io sapevo che erano le femmine che non sapevano la destra e la sinistra, e che non hanno tutte le convinzioni. Ok, quindi la stessa istruzione va bene per entrare.